Scontri in piazza a Palermo tra i manifestanti Nomuos e la polizia. Il capoluogo siciliano ospitava sabato due manifestazioni diverse e contrapposte. Promosse dalla rete Nomuos e dal movimento Nomuos, i disordini si sono verificati nei pressi del Teatro Massimo, dove i due fronti della protesta sono entrati in contatto. Mentre il corteo, organizzato dalla rete Nomuos, partito dal Teatro Politeama, stava dirigendosi verso Piazza Massimo, dove era in corso il presidio dei manifestanti rivali, alcune frange più estreme del movimento Nomuos hanno lanciato pietre e bombe carta verso il corteo, scontrandosi con la polizia intenuta antisommossa, che ha effettuato delle cariche di alleggerimento per disperdere gli attivisti dei centri sociali. Dopo le cariche, la polizia è riuscita a far partire il corteo diretto a Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea regionale siciliana. Mentre noi scendiamo in piazza pacificamente contro il Nomuos, dichiara Stefano Di Domenico, portavoce della rete Nomuos, i centri sociali scatenano assurde violenze. Chi si è reso protagonista di questi atti si pone fuori il movimento Nomuos. Noi continueremo la nostra lotta senza farci intimorire. I Nomuos si erano presentati in piazza Divisi, è ormai spaccato il fronte del movimento contro il sistema di comunicazioni satellitari delle forze armate statunitensi in costruzione in contrada Ulmo a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Da una parte, infatti, c'era il corteo indetto dalla rete Nomuos, dall'altra la contromanifestazione del movimento Nomuos, che ha organizzato un presidio in piazza Verdi per smascherare i finti attivisti di una lotta popolare che non gli appartiene, protagonisti di una farsa creata d'arte da alcuni partitini della destra per cercare un po' di visibilità sulla pelle del popolo niscemese siciliano. Da piazza Politeame è partito, invece, il corteo organizzato dalla rete Nomuos. Grazie a tutti.